Buongiorno a Chianciano Terme, un posto di trattamento e rilassamento, ma anche un bellissimo villaggio per scoprire. I documenti più vecchi sulle città datengono in volta al XII secolo. Nel XVI secolo Pancredi Manenti, l'Orvieto del Consul, definisce il conto di Chianciano e nel XII secolo la città deve essere chiamata un distritto municipale. A fine del XVIII secolo, la comunità locale sensibili le potenze dei luoghi e gli spas erano costruzati. Dal XIX secolo, la storia di Chianciano sarà molto più relacionata con la storia di spas e del gestione. Oggi, Chianciano Terme è uno dei più importanti luoghi europei, con i suoi luoghi, grandi parchi, modelli modelli e hotels. Chianciano Terme, il triumfo di benedizione tra salute e bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.